Tagoier Autavia, l'orologio da polso che unisce eleganza e tecnologia. Se sei un appassionato di orologeria, sicuramente conosci il modello Tagoier Autavia, un orologio da polso che ha fatto la storia del marchio svizzero. L'Autavia è un orologio che unisce lo stile classico all'innovazione tecnologica, offrendo prestazioni elevate e design raffinato. L'origine dell'Autavia risale al 1933, quando il fondatore di Tagoier, Eduard Hoyer, lanciò sul mercato il primo cronografo da cruscotto per auto e aerei. Il nome Autavia deriva infatti dalla contrazione di Automobile e Aviation, due settori in cui il cronografo si dimostrò molto utile e apprezzato. Il cronografo Autavia era dotato di una cassa in acciaio con due pulsanti laterali per azionare le funzioni di Start, Stop e Reset. Il quadrante era ampio e leggibile, con una scala tachimetrica o telemetrica a seconda dell'uso. Nel 1962, l'Autavia divenne un orologio da polso, grazie all'intuizione di Jack Hoyer, nipote di Eduard e direttore generale dell'azienda. Jack Hoyer decise di trasformare il cronografo da cruscotto in un orologio sportivo e funzionale, adatto agli appassionati di automobilismo e aviazione. L'orologio Autavia aveva una cassa rotonda in acciaio con una lunetta girevole bidirezionale, che poteva essere graduata in diversi modi, tachimetro, decompressione, GMT o 12 ore. Il quadrante era bianco o nero, con tre contatori per le funzioni cronografiche. Il movimento era meccanico a carica manuale o automatica. Il suo quadrante luminoso con indici e lancette ben visibili garantisce la massima leggibilità in ogni situazione, mentre la cassa è in acciaio con lunetta girevole in ceramica a sicura durata e resistenza. La sua resistenza all'acqua e la sua robustezza lo rendono un compagno ideale per le attività quotidiane e le avventure più emozionanti. L'Autavia è un orologio realizzato in molte versioni, che offre la possibilità di scegliere tra diverse dimensioni, colori e materiali. Le dimensioni della cassa possono essere tra i 39 e i 42 mm. Il quadrante si può trovare di colore bianco, nero, blu o marrone, mentre il materiale del cinturino è disponibile in acciaio, cuoio o tessuto. L'Autavia è quindi un orologio che non delude mai, sia per la sua bellezza che per la sua funzionalità. Un segnatempo storico per il marchio Tag Heuer, un gioiello ricercato da collezionisti e appassionati in tutto il mondo. Il suo design sportivo e raffinato lo rende un orologio che può essere utilizzato in ambienti eleganti, ma anche in situazioni estreme, come le gare automobilistiche.